Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. L'obiettivo di questa lezione è quello di iniziare a capire come funziona JavaScript e lo faremo con qualche esempio pratico che richiama i concetti che ho spiegato nelle lezioni precedenti relative al linguaggio JavaScript. Innanzitutto, di cosa si tratta? Si tratta di un linguaggio di programmazione che ci permette di andare ad estendere le funzionalità del web, quindi ci permette di andare ad aggiungere un comportamento dinamico all'interno di una pagina HTML. È un linguaggio che, come sintassi, assomiglia per alcuni aspetti al linguaggio C o al linguaggio Java, ma è un linguaggio completamente separato. Quindi, nonostante il nome JavaScript faccia pensare a Java, in realtà si tratta di due linguaggi abbastanza diversi, sia per il contesto che per migliorare alcuni costrutti che sono presenti. Che cosa possiamo fare con JavaScript? Innanzitutto, possiamo generare del contenuto all'interno di una pagina, rispondere a quelli che sono degli eventi, quindi a fronte di un clic, invece di sottomettere un'informazione, possiamo avviare un frammento di codice che fa delle elaborazioni e possiamo anche andare a colloquiare con un server, quindi un frammento di codice JavaScript, è in grado di inviare un'informazione a un server, ricevere la risposta e utilizzare il contenuto della risposta per andare a modificare o popolare il contenuto di una pagina web. Come si integrano HTML e JavaScript? Si integrano in diversi modi. il primo modo, quello sostanzialmente più semplice e intuitivo, è quello di andare a mettere all'interno di una pagina HTML un tag di tipo script che ci permetta di andare a generare dei contenuti. Lo vediamo con un esempio all'interno dell'ambiente WebStorm. Vi creo un nuovo file HTML, esempio JavaScript di tipo HTML5, lo aggiungiamo al controllo versione in modo che poi venga messo a disposizione, quindi questa è la nostra pagina HTML. Se proviamo ad aprirla vedete che sostanzialmente la pagina è vuota perché non c'è assolutamente nulla. quello che possiamo fare è, a un certo punto, ad esempio dopo il titolo della pagina, andare a mettere uno script che ci permetta di inserire degli elementi. Questo script conterrà del codice JavaScript. che cosa possiamo avere nel codice JavaScript? Vi faccio un riepilogo molto veloce degli elementi fondamentali del linguaggio in modo da capire cosa possiamo fare e cosa possiamo includere. Allora, come in tutti i linguaggi di programmazione, i dati vengono memorizzati in variabile, quindi le variabili possono essere dichiarate con la notazione var e il nome della variabile, oppure let e il nome della variabile. La differenza tra var e let è che il contesto in cui la variabile visibile cambia leggermente, qui all'interno di un tag di tipo script queste due dichiarazioni sono assolutamente equivalenti. tendenzialmente, diciamo che le nuove versioni di Java preferiscono l'uso della dichiarazione di tipo let rispetto a quelle di var, perché let ha un contesto di visibilità un po' più ristretto, quindi ridurre il contesto di visibilità permette di evitare conflitti o interferenze tra variabili che hanno lo stesso nome in contesti diversi. Terzo modo di andare a dichiarare una variabile è di dichiarare non una cosa che è variabile, ma bensì una costante. Diamo il nome a una nostra costante. A questo punto non potremo più andare a modificare il valore di quella costante. Cosa possiamo mettere dentro le variabili e come si comportano? Allora, come vedete, la dichiarazione di una variabile var i è molto diversa da quella che avremmo potuto avere in c o in Java, dove avremmo scritto int i. Questo perché JavaScript è un linguaggio con un sistema dinamico di tipi, ovvero una variabile non ha un tipo predefinito. Il tipo della variabile cambia di volta in volta quando assegniamo a quella variabile dei valori diversi. Quali sono i tipi di valori che noi possiamo andare ad associare alle variabili? Ovviamente abbiamo i valori di tipo stringa che sono quelli rappresentati, ad esempio, tra doppi apici. Attenzione che le stringhe possono essere scritte non soltanto con i doppi apici, ma anche con i singoli apici. Le due scritture in JavaScript sono assolutamente equivalenti, nel senso che la stessa stringa la posso dichiarare racchiusa tra singoli e tra doppi apici e non cambia assolutamente nulla. A differenza di quanto avveniva in C o in Java, dove i singoli apici sono riservati ai caratteri. Qui quello che possiamo fare, utilizzando il fatto che i delimitatori, ad esempio, sono dei doppi apici, io posso anche andare a utilizzare i doppi apici all'interno di una stringa che è delimitata da singoli apici, oppure andare a utilizzare i singoli apici all'interno di una stringa che ha come delimitatori i doppi apici. Questo non toglie il fatto che io comunque posso utilizzare il backslash per andare a quotare, ad esempio, i doppi apici all'interno di una stringa con i doppi apici. Oltre alle stringhe, ovviamente, come in tutti i linguaggi di programmazione, abbiamo i valori numerici, quindi i uguale a 1. I valori numerici non sono dettamente separati in funzione del tipo. Cosa vuol dire? Vuol dire che i valori interi rispetto ai valori floating point non hanno dei tipi chiaramente diversi, ma sono tutti numeri. Per cui non c'è il problema di conversione di tipo o di mettere assieme variabili numeriche di tipo diverso, eccetera. Qui i numeri sono tutti uguali e tendenzialmente sono numeri floating point, ovvero con il punto. Qui non abbiamo perdita di informazione, ad esempio passando da un valore floating point a un valore intero. oltre ai nostri tipi stringa e tipi numerici abbiamo un altro tipo che il tipo booleano o logico uguale true oppure false che sono i due valori predefiniti per le variabili booleane. per quanto riguarda le dichiarazioni e le istruzioni che noi andiamo a mettere all'interno di un programma javascript normalmente vedete io ho sempre terminato tutte i nostri delle nostre dichiarazioni, delle nostre istruzioni con un punto e virgola a rigore il punto e virgola non è strettamente richiesto nel senso che io potrei togliere tutti i miei punti e virgola e il mio codice sarebbe corretto allo stesso modo perché la capo in fondo alla linea funziona come un separatore tuttavia molto spesso succede che il codice javascript venga preso e venga compattato eliminando spazi a capo eccetera e allora in quel caso la mancanza di punti e virgola mi porta ad avere una situazione che è ovviamente errata perché ha senso fare questa compressione per il codice javascript mentre invece è un qualcosa che non viene fatto per il codice java o il codice c beh semplicemente perché il codice javascript viene trasmesso via rete così com'è in funzione esattamente com'è un programma perché il codice javascript vi ricordo non viene compilato ma bensì viene trasmesso ed eseguito di volta in volta ok allora scusate ma c'è un po' di rumore arrivo subito spettacolare la solito la base non viene compilato non viene compilato ma il codice javascript non viene compilato ma Grazie a tutti. Ok, scusate l'interruzione. Stavo dicendo che per quanto riguarda il codice Java, il video viene trasmesso direttamente così com'è in formato testuale, ha senso comprimerlo, quindi togliere gli spazi e tutti i caratteri inutili in modo da garantire che sia il più piccolo possibile e occupi meno spazio all'interno della trasmissione. Cosa che invece non si fa per il codice C o Java perché il codice Java o C viene compilato e poi non si utilizza il codice sorgente ma si utilizza la versione compilata e quindi quella è già automaticamente di per sé compressa. Per cui la conclusione di questo discorso è sebbene la sintassi JavaScript permetta di scrivere delle righe che non sono terminate in un punto in virgola e un qualcosa che è altamente sconsigliato fare. Infatti WebStorm quando viene utilizzato ci segnala un errore ogni volta, un errore, un warning tutte le volte che andiamo a scrivere una linea senza il terminatore. Per cui quando ci viene visualizzato la fine dice unterminated statement, ovvero l'istruzione non è completata. Il codice JavaScript funziona lo stesso, ripeto, ma è buona norma non utilizzare questo tipo di versione o di convenzione Java script che prevede di terminare le righe con una capo. Oltre a ovviamente le variabili e i loro possibili tipi, dove il principale abbiamo detto sono i valori numerici, le stringhe e i valori logici, abbiamo i costrutti di controllo, quindi gli if, i for, eccetera. Per cui, ad esempio, posso andare a scrivere un ciclo for, i uguale 0, i minore di 10, più più i. E qui posso fare qualunque tipo di operazione. Un'operazione che posso fare è, ad esempio, andare a calcolare, che so, la media, andando a mettere una variabile media uguale a 0 e poi media più uguale a i. E infine, media è uguale alla media diviso 10. Codice assolutamente inutile, ma giusto per farvi vedere quello che posso andare a fare. In generale, quando scrivo del codice all'interno di una pagina HTML, l'obiettivo è quello di andare a creare dei contenuti che possono essere inseriti nella pagina. Io questo lo posso fare, ad esempio, andando a utilizzare il metodo write dell'oggetto document. In JavaScript tutti i valori, sia quelli memorizzati nelle variabili, che le costanti, sono trattati come degli oggetti. Che cos'è un oggetto? È sostanzialmente una versione un po' più complicata di quello che è una semplice variabile elementare, primitiva, come può essere un intero o un valore booleano, che sostanzialmente ci offre la possibilità di eseguire delle operazioni. Queste operazioni che io posso eseguire sugli oggetti si chiamano metodi. Per cui, document è un oggetto che è normalmente disponibile all'interno di un browser e rappresenta per l'appunto il documento HTML, write è un metodo che io posso andare a chiamare su questo oggetto di tipo document. Quindi, quando vado a chiamare document.write e stampo, ad esempio, i, il valore di, che è un valore numerico, verrà convertito nella sua rappresentazione stringa e verrà aggiunto all'interno del nostro documento HTML. Per cui, se io salvo questo documento e vado a vedere qui nella pagina in cui l'abbiamo visualizzato, a ricaricare la pagina, quello che ottengo, lo vediamo qua, è 0123456789. Cioè, i numeri sono stati automaticamente aggiunti proprio come caratteri all'interno della nostra pagina HTML. Ovviamente, io posso anche andare a generare del codice che sia effettivamente codice HTML. per cui, ad esempio, potrei andare a scrivere document.write, mettere, ad esempio, ol, una capo, il punto e virgola, qui posso mettere, ad esempio, li più i più slash li e infine posso andare a scrivere qui un slash ul e qui un a capo. Vi ricordo che gli a capo in HTML non servono a nulla, però il risultato è che il codice HTML che genero, essendo ordinato per righe, è un po' più facile da leggere per noi umani. Per il browser non cambia nulla, ma per noi che andiamo a vedere il risultato è un po' più facile. E posso continuare, ad esempio, andare a mettere document.write un capo verso, media uguale più media. e a capo. A questo punto, se vado a visualizzare il risultato di questa pagina, dell'esecuzione di quel codice HTML, di quel codice JavaScript all'interno dell'HTML, quello che ottengo è, ovviamente, un elenco puntato e un capo verso con la media. Se andiamo a vedere la struttura della pagina, utilizzando il nostro strumento di sviluppo, vedete che all'interno della pagina ritrovo il mio elemento script e subito dopo trovo la lista con i numeri da 0 a 9 e il capo verso con la media. Quindi, sostanzialmente, cosa succede? Quando il browser incontra un tag di tipo script, esegue il codice che è contenuto al suo interno e, se quel codice produce dell'output, tramite il meccanismo del document.write, lo aggiunge immediatamente dopo lo script. Quindi, legge tutto l'elemento script, dall'inizio fino alla fine, lo esegue e aggiunge l'output immediatamente a vale di questo script. Quindi, questo è un meccanismo per andare a generare del contenuto. Ovviamente, noi qui l'abbiamo fatto usando un ciclo, che quindi è molto molto semplice, possiamo andare a generare dei documenti che sono anche molto più complicati e complessi di quello che è qua. Ovviamente, i dati possono arrivare da strutture complesse, possono essere letti tramite un web server, quindi qui dentro possiamo fare tutto quello che vogliamo. Un limite di questo tipo di organizzazione è che lo script viene letto durante la fase iniziale di visualizzazione della nostra pagina HTML e quindi non permette, così come è fatto, di andare a interagire in maniera interattiva con il nostro sistema. oltre a questo meccanismo noi abbiamo la possibilità di andare a sfruttare quello che è un meccanismo di output e di tracciamento di quello che avviene che si basa su un altro oggetto, quindi abbiamo conosciuto l'oggetto document, un altro oggetto che è disponibile all'interno del browser è un oggetto che si chiama console in cui io posso andare a scrivere dei log, quindi delle informazioni che vengono scritte e che tracciano quello che avviene per cui posso scrivere iterazione due punti più i. Se vado a riaprire la pagina di prima quindi rieseguo Allora, sostanzialmente da un punto di vista di contenuto HTML non cambia assolutamente nulla. Quello che cambia è se noi andiamo a vedere questa parte qua che si chiama console in cui come vedete sono state generate tutte queste informazioni iterazione 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 che sono i messaggi scritti durante l'esecuzione di quel loop. Altra piccola osservazione rispetto al codice che abbiamo appena scritto vedete che io ho ad esempio lo vediamo in questo frammento ho fatto una stringa più una variabile che contiene un valore numerico i più un'altra stringa In JavaScript io posso andare a concatenare in maniera agevole vari valori tra di loro utilizzando l'operatore più quindi il più quando è coinvolta una stringa sostanzialmente prende quella stringa e la concatena con diciamo la versione la rappresentazione in formato stringa dell'altra variabile quindi se i contiene 0 cosa succederà? Che quel valore di 0 verrà convertito nel carattere singolo carattere 0 e verrà concatenato con li da un lato e slash li dall'altro quindi in generale io posso sempre e in maniera molto semplice utilizzando il più andare a concatenare stringhe con altri valori e con altre stringhe e questo è un meccanismo estremamente comodo e facile da utilizzare per andare a gestire le stringhe vi ho menzionato la console la console in realtà non è semplicemente l'ambiente in cui io posso andare a vedere ciò che viene stampato come in questo caso ma la console è il meccanismo con cui io posso andare tranquillamente a interagire con il mio sistema per cui questa che vediamo è la console di Firefox vedete che abbiamo un tab di console abbiamo ovviamente un tag di analisi della pagina in cui abbiamo la struttura HTML ma quello che ci interessa è la console all'interno della console noi possiamo tranquillamente andare a fare delle operazioni per cui noi possiamo andare a dichiarare una variabile x uguale 42 cosa succede? che quella variabile a quel punto è definita all'interno del nostro sistema non solo le variabili definite dal codice JavaScript che abbiamo visto qua quindi la variabile j la variabile media sono disponibili quindi se io scrivo semplicemente media media ah no scusate perché qui sono in un'altra pagina ecco qua se nella console vado a scrivere media vedete che ottengo 4,5 quindi ho la possibilità di andare a definire variabili volendo posso andare a definire dei cicli y quindi for let i uguale a 0 i minore di 10 più più i aperta graffa e qui posso andare a mettere console.log i chiusa graffa e dando l'invio quello che ottengo è tutta una serie di log che corrispondono a queste stampe questo è quello che normalmente si chiama REPL che sta per read evaluate print loop ed è il modo con cui noi interagiamo con una un meccanismo di console di questo tipo allora domanda qual è la differenza tra let e var la differenza è il contesto di visibilità ovviamente dichiarate a questo livello let e var non hanno grossa differenza ok quindi qui dentro io posso utilizzare let e var in maniera assolutamente analoga la differenza c'è quando io lo uso in questo modo per cui let i uguale a 0 sostanzialmente definisce una variabile i scusate allargo così abbiamo a disposizione un po' tutto definisce una variabile i che non esiste perché ha come visibilità esclusivamente questo blocco di codice se io facessi la stessa operazione con un var i a questo punto i è noto per cui il contesto in cui è visibile la variabile cambia nel caso del let è esclusivamente il blocco in cui viene definito per cui se lo definisco torno un attimo su qui dentro let i vuol dire che i è visibile esclusivamente all'interno del blocco del ciclo for se invece utilizzo var var è sostanzialmente tutto l'ambiente globale oppure se ci troviamo dentro una funzione è tutta la funzione quindi il let mi permette di andare a definire delle variabili che hanno un contesto di visibilità più ristretto per cui quando vado a dichiarare un for e qui voglio dichiarare una variabile ragionevolmente vorrei andare a definire una variabile che mi serve esclusivamente nel contesto di quel blocco di quel blocco di quell'iterazione for e non mi interessa avere la variabile disponibile dopo anzi normalmente è meglio non avere la variabile disponibile dopo perché potrebbe andare in conflitto con altri cicli che utilizzano magari di nuovo la variabile i per andare a fare un'iterazione quindi come norma di buona programmazione più riusciamo a restringere la visibilità delle variabili meglio è perché evitiamo conflitti tra variabili o anche funzioni come vedremo più avanti che hanno lo stesso nome per cui la raccomandazione è utilizzare il più possibile dei contesti ristretti di definizione delle variabili per questo motivo diciamo che con javascript dalla versione 6 in avanti il risultato è che la raccomandazione è di utilizzare let piuttosto che var proprio perché in generale let ha una visibilità più ristretta è chiaro che se io qui scrivo all'esterno di tutto quindi non all'interno di un blocco di codice let i oppure scrivo var di il risultato è lo stesso perché a questo punto la visibilità è completa altra domanda le scritture i più più e più più i sono equivalenti allora nel contesto di un ciclo for di questo tipo sì non cambia assolutamente nulla ok in un contesto diverso no nel senso che se io vi scrivo allora allargo un po' il codice così forse riusciamo a vederlo meglio se io vi scrivo var i uguale a 0 poi vi scrivo var x uguale a più più i x a questo punto vale 1 se io vi scrivo la stessa cosa ma invece di scriver i più più i scrivo i più più x a questo punto vale 0 perché perché sostanzialmente questo è un pre-incremento quindi prima incremento i e poi prendo il valore risultato questo è un post-incremento quindi prima prendo il risultato quindi la variabile il valore di i dopodiché faccio l'incremento quindi alla fine di entrambe le alternative i conterà il valore 1 solo che qui prima incremento e poi prendo il valore e lo metto in x qui invece prendo il valore lo metto in x e dopo incremento altra domanda cosa serve console.log console.log serve per andare a stampare in quest'area del browser i messaggi quindi quando io scrivo console.log vado a scrivere un messaggio che compare qui dentro allora è chiaro che scriverlo così direttamente all'interno della della nostra console ha poco senso perché lo scrivo qui e la opu mi compare subito dopo può essere molto più utile se io vado a utilizzare console.log all'interno ad esempio come abbiamo visto prima qui di un codice che viene eseguito e quell'esecuzione lascia una traccia all'interno della console quindi mi permette di fare una sorta di attività di tracciamento di quello che avviene che può essere molto utile nel momento in cui io vado a fare operazioni di debug ok quindi permette di andare a scrivere una traccia di quello che avviene da qualche parte alla fine lo utilizziamo in maniera analoga a quanto potremmo aver utilizzato il printf nei programmi c per capire quale è lo stato intermedio di una variabile cosa sta succedendo sono arrivato qui eccetera è uno dei tanti modi che mi permette di andare a fare un output che io posso poi andare a verificare successivamente un altro modo di andare a fare un'operazione di output quindi mostrare qualcosa all'utente quindi oltre a scrivere qualcosa con document.write all'interno di un tag di postscript scrivere un console punto log attenzione oltre al console punto log c'è anche un console punto warn e console punto error che mi servono per andare a scrivere dei messaggi di errore per cui se scrivo console punto error e qui vado a scrivere errore quando tutti questi messaggi io posso in realtà andare a filtrare e quindi andare a visualizzare ad esempio soltanto gli errori andare a mettere anche i log gli avvisi oppure li tolgo quindi il diverso livello di gravità tendenzialmente può essere filtrato nelle console allora questa è la console di di firefox questa che vediamo qua è la console di chrome che vedete di nuovo esiste console qui posso andare a scegliere che livelli di log voglio vedere info warnings ed error anche qui posso andare a dichiarare la mia variabile i uguale 10 e poi posso andare a chiedere di valutare il valore della variabile questa è la console di safari il sostanzialmente il browser su mac e di nuovo vedete che è assolutamente analogo e anche qui abbiamo tutti i messaggi errori warning log quindi con qualche piccola differenza esiste sempre un tab che si chiama console all'interno di tutti questi browser oltre a document.write console.log error eccetera sicuramente si utilizza log per andare a tracciare quello che avviene diciamo per scopi di debug esiste anche la possibilità di chiamare un metodo dell'oggetto window che si chiama alert in cui di nuovo posso andare a mettere un messaggio questo che cosa fa sostanzialmente mi apre una finestra di messaggio come quella che vediamo qua con un pulsante ok che io posso andare a premere ok quindi è una finestra di avviso qui posso premere ok per farlo andare avanti oltre a alert esiste anche il metodo prompt in cui vado a mettere inserisci un numero 42 e posso mettere una variabile risultato uguale vedete che mi apre una finestra con l'input per cui posso andare a mettere il valore a questo punto la variabile risultato vale 3 ovvero quello che io ho inserito all'interno del prompt terza variabile terza terzo metodo che io posso utilizzare è quello che chiamiamo che si chiama confirm che sostanzialmente mi fa vedere una finestra di tipo dialog analoga all'alert solo che invece di avere un unico pulsante tipo ok ha due pulsanti ok e annulla se io scrivo ok il risultato di questo metodo confirm sarà un valore positivo true se invece premo annulla il risultato sarà falso ultimo dettaglio importante se voi utilizzate document.write all'interno di uno script il browser che cosa fa sostanzialmente va ad accodare qui subito dopo il tag di chiusura il risultato del document.write solo che se utilizzate il document.write quando la pagina è stata completamente letta il browser non sa dove andare a mettere il risultato per cui se voi andate a mettere un p capoverso di prova dopo che la pagina è stata completamente letta il risultato è che viene cancellato tutto il contenuto della pagina e viene messo quello che voi avete scritto quindi document.write può essere utilizzato esclusivamente all'interno di un tag di tipo script che quindi definisce il punto all'interno della pagina HTML dove l'output verrà inserito benissimo a questo punto andiamo un po' più nel dettaglio a capire quali altri oggetti abbiamo a disposizione in realtà vi dicevo qualunque variabile cancello un attimo il contenuto di questa console così possiamo scrivere senza confonderci qualunque variabile ad esempio di tipo stringa è di fatto come vi accennavo un attimo fa un oggetto cosa vuol dire che non è semplicemente il valore cioè quella sequenza di caratteri ma bensì è una struttura più complessa a cui posso chiedere di eseguire delle operazioni e queste operazioni sono quelli che si chiamano metodi i metodi li abbiamo visti nel caso dell'alert del caso del prompt eccetera vengono chiamati sostanzialmente come fossero delle funzioni l'unica differenza è che io una funzione la chiamo in questo modo quindi funzione aperta chiusa tonda ovviamente funzione non è definito quindi la console mi segnala subito che c'è un errore il metodo invece prendo un oggetto metto un punto e poi chiamo il metodo quindi ho l'oggetto punto e poi una sintassi che è del tutto analoga a quella di una chiamata funzione qual è la differenza e che quella funzione implicitamente andrà a operare sull'oggetto su cui è chiamata quindi è come se io avessi un parametro nascosto che viene passato a questo metodo che è quello che mi permette di sapere che sto operando su un oggetto piuttosto che un altro vi ho fatto la stringa all'inizio proprio perché a questo punto vogliamo vedere velocemente quali sono i principali metodi che sono disponibili sugli oggetti di tipo stringa quindi quando faccio s punto posso fare un'operazione che si chiama slice slice che cosa fa va a prendere una un sotto insieme della stringa a cui viene applicata quindi quel metodo slice applicata una stringa ne prende un sotto insieme che cosa fa cosa ha bisogno di come informazioni slice per andare a estrarre una sottostringa il carattere di partenza ovvero la posizione e poi il carattere di fine per cui se volessimo se volessimo andare a prendere la parola la parola fiera vedete che a posizione 0 1 2 le duelle 3 a 4 lo spazio 5 la f quindi se metto 5 andrò a prendere dalla posizione dove si trova la f di fiera in avanti poi vado a mettere un secondo parametro che è la posizione in cui mi devo fermare per cui se questo è 5 la i è 6 e quindi 5 6 7 8 9 in realtà l'indice a cui fermarsi di solito è almeno nel metodo slice è il primo carattere da escludere quindi quello con indice 10 quindi s.slice 5 10 mi dà fiera se io metto s.slice soltanto 5 lo vediamo già sotto nell'anteprima scusate ho messo 2 ma dovevo mettere 5 quello che succede è che vengono presi tutti i caratteri dalla posizione 5 in avanti un'altra operazione che io posso fare sulle stringhe è andare a vedere se s no contains posso fare s.index of e andare a mettere ad esempio soldi il risultato è la posizione all'interno della stringa in cui si trova questa sottostringa attenzione che se io metto una sottostringa che non esiste il risultato è meno 1 quindi questi sono i diciamo così i meccanismi principali che ho a disposizione per le stringhe ovviamente su una stringa io posso andare a sapere la lunghezza vi faccio notare che la lunghezza a differenza dei metodi che abbiamo visto prima non ha le parentesi tonde dopo perché questa qui è quella che si chiama una property una proprietà dell'oggetto quindi le proprietà dell'oggetto sono delle variabili che si trovano all'interno dell'oggetto e che non richiedono un metodo ovviamente le proprietà tendenzialmente io le posso esclusivamente leggere non posso andare a modificarle quindi non posso fare s.lent uguale 55 perché in realtà s è sempre quello non mi è cambiato assolutamente quindi la scrittura della lunghezza non influenza la stringa un'altra cosa che posso fare è fare la chiamata a un metodo che si chiama split il quale va a prendere la stringa identifica un carattere che io gli passo ad esempio lo spazio e mi spezza la stringa in corrispondenza di quel carattere per cui se faccio uno split in termini come separatore lo spazio ovviamente mi troverò questo spazio questo quest'altro questo successivo questo questo e quest'altro e infine l'ultimo prima dei puntini il risultato qual è il risultato è un array che contiene tutti questi elementi e abbiamo visto che oltre alle stringhe e ai valori numerici ci sono anche gli array gli array esattamente come le stringhe i valori numerici l'oggetto console eccetera sono anch'essi degli oggetti per cui su questi ci sono anche dei metodi ok su cui torneremo magari più avanti quindi ripilogando abbiamo detto che ci sono le variabili ci sono un insieme limitato di tipi stringhe valori numerici valori booleani abbiamo i costrutti di controllo abbiamo visto un form ma ovviamente potete facilmente immaginare che l'if lo switch e il while si comportano come negli altri linguaggi di programmazione quindi non c'è grossa differenza e ovviamente abbiamo anche le funzioni ok per cui posso andare a definire una function somma che riceve come due parametri a e b e restituisce a più b come vedete in questo caso come in altri il risultato di questa dichiarazione non è un valore che la nostra console può stampare perché normalmente la console ci stampa il risultato di una di un'espressione in questo caso abbiamo dichiarato una funzione quindi quello non è un qualcosa che può essere visualizzato non è un valore e ovviamente io posso andare a chiamare 20 più 22 22 scusate non somma 20 più 22 ma somma 20 virgola 22 e il risultato è 42 e qui vedete che c'è note number che è uno di quei valori speciali che vengono restituiti quando il risultato di un'operazione aritmetica o comunque basata sui numeri non mi può dare un risultato significativo per quanto riguarda le funzioni la dichiarazione utilizzo la parola chiave function c'è un nome l'elenco dei parametri in questo caso notiamo che a differenza di quanto avviene in altri linguaggi di programmazione quanto quali ad esempio C o Java i parametri non hanno un tipo però non ce l'avevano neanche le variabili quindi a maggior ragione perché dovrebbero averceli i parametri quindi hanno semplicemente un nome abbiamo un return esattamente come per le funzioni che avevamo in altri linguaggi di programmazione e questa è la descrizione di una funzione a questo punto una volta dichiarata la funzione io la posso tranquillamente utilizzare all'interno di una funzione ovviamente io posso andare a dichiarare delle variabili utilizzando let oppure var che hanno la la differenza che c'era prima e poi la possiamo utilizzare domanda che differenza c'è tra dichiarare una funzione così come ho fatto adesso oppure assegnarla a una variabile allora la differenza è sottile io quello che posso fare è andare a dichiarare una variabile addizione uguale a tutto tutto questo a questo punto cosa succede che dentro la variabile addizione che cosa abbiamo messo abbiamo messo un valore molto speciale un oggetto molto speciale che è una funzione ecco quindi che scopriamo che in javascript oltre ai tipi che abbiamo menzionato prima quindi numerici stringhe e booleani esistono dei valori particolari che sono per l'appunto le funzioni per cui quando io ho la mia addizione quello che posso fare è chiamare tranquillamente 13 più scusate 13,29 i due parametri che ho passato prima e ottengo sempre risultato risultato ok quando faccio quest'operazione molto spesso quello che viene fatto è di omettere il nome qui perché perché sostanzialmente non è molto utile tanto assegno l'oggetto risultato di questa dichiarazione a addizione a questo punto posso utilizzare il nome addizione quindi il nome somma è sostanzialmente inutile per cui molto spesso quando faccio un var addizione faccio var addizione uguale function a b e poi return a più b ok ve lo scritto in una riga sola che è più compatto per cui ometto il nome specifico della funzione tanto vuol dire che quella funzione si dice che è anonima ma immediatamente la battezziamo con il nome addizione perché andiamo a memorizzare l'oggetto funzione dentro la variabile quindi quando io ho una variabile di tipo funzione se metto le tonde subito dopo sostanzialmente sto facendo una chiamata funzione attenzione che la chiamata funzione prevede che io metta le tonde se io scrivo semplicemente addizione cosa succede succede che qui sto parlando della console la console vede che addizione è un oggetto di tipo funzione e quindi non fa altro che stamparmi la definizione di questa funzione quindi in particolare il quale è compattato ma è un qualcosa che ha due due argomenti si chiama addizione e ha un po' di altre caratteristiche quindi ai fini pratici fare var addizione function ab oppure function somma a virgola b return a più b è esattamente la stessa a questo punto posso utilizzare addizione oppure somma esattamente nello stesso modo visto che ci siamo stiamo parlando di funzioni vi dico che nella delle ultime versioni di javascript la versione 6 in realtà non è proprio recentissima ma diciamo che è quella a cui noi facciamo riferimento perché è quella più diffusamente supportata da tutti i browser quindi se voi scrivete del codice che è conforme a s6 ragionevolmente qualunque browser diffuso è in grado di eseguirlo correttamente se voi mettete degli elementi che invece sono stati introdotti nelle versioni più recenti di javascript è possibile che alcuni browser magari quelli un po' meno aggiornati non lo supportino e quindi non siano in grado di eseguire il codice correttamente il vostro obiettivo in generale è avere un frammento di codice che sia eseguibile da chiunque un altro modo è quello di andare a dire var più uguale a a virgola b freccia a più b questa è quella che si chiama la notazione con la arrow function queste tre dichiarazioni sono sostanzialmente tutte analoghe quindi var addizione uguale function di a e b function somma di a e b e più uguale a virgola b freccia a più b quest'ultima notazione che è molto più compatta permette sostanzialmente di evitarsi di mettere la parola chiave function scusate la parola chiave function e tutta questa impalcatura di graffa aperta return graffa chiusa il risultato poi è sostanzialmente analogo non è esattamente la stessa cosa ok nel 90% dei casi quelle tre dichiarazioni sono identiche e quindi possono essere utilizzate allo stesso modo quindi io posso andare a fare più 13 29 e ottengo sempre lo stesso risultato in alcuni contesti la raw function però non è esattamente equivalente alle altre ci arriveremo poi più avanti quando parleremo di oggetti in maniera un po' più approfondita in una delle prossime lezioni le domande alle raw function in javascript possono essere paragonate alle lambda expression in java diciamo che fanno riferimento a più o meno significati analoghi la differenza fondamentale è che in java non esistono funzioni a sé stanti mentre invece in javascript le funzioni sono degli elementi principali però in termini di come vengono utilizzate la notazione qui abbiamo l'uguale freccia in java abbiamo trattino freccia la sintassi in generale la compattezza dell'espressione direi di sì poi nei dettagli del linguaggio ci sono alcune differenze significative però sono stretti parenti arrivano sostanzialmente dallo stesso movimento culturale che è quello dell'approccio funzionale ok a questo punto vi ho introdotto le funzioni hanno alcune caratteristiche particolari le vedremo poi magari nella pratica quello che invece mi premeva ancora andare a raccontarvi prima di chiudere la lezione di oggi è una caratteristica importante in java ovvero il fatto che normalmente è possibile andare a combinare oggetti di tipo diverso e automaticamente javascript cerca di far funzionare tutto nel migliore dei modi vi faccio un paragone ad esempio se io in c dichiaro una variabile int di tipo i e poi una variabile di tipo string appuntatore a carattere e cerco di moltiplicare uno per l'altro il compilatore tendenzialmente mi dice guarda che non è possibile in javascript non essendoci un tipo predefinito per le varie diverse variabili il compilatore quello che guarda il codice e genera qualcosa di eseguibile non può dirci nulla nel senso che non sa bene quali sono i tipi coinvolti e quindi cosa fa? scarica sulla fase di esecuzione quella che si chiama runtime il compito di cercare di far funzionare al meglio le cose per cui se io scrivo 42 per 3 il risultato è 126 perché? perché il prodotto è un operatore definito in java scusate in javascript ed è un operatore che richiede due valori numerici a sinistra abbiamo una stringa e a destra abbiamo un numero quindi che cosa fa? cerca di prendere la stringa di convertirla in un numero e di fare l'operazione quindi lì dentro c'è una conversione automatica che viene fatta automaticamente per l'appunto da javascript e ogni volta che io ho operatori applicati a elementi che hanno un tipo diverso javascript cerca di metterci una pezza e convertire come possibile per cui se io ho 42 più 3 il risultato è 4,2,3 perché? perché in questo caso visto che il più può essere applicato a una stringa javascript quando è possibile mi converte un numero in una stringa piuttosto che il viceversa perché? perché quando io converto una stringa in un numero è possibile che le cose non vadano a buon fine perché se io ad esempio scrivo a2 invece di 42 per 3 il risultato è n a n not a number per cui in generale dove è possibile la nostra diciamo il motore di esecuzione di javascript cerca di convertire tutto a stringa dove è possibile oppure quando degli operatori come ad esempio il prodotto che richiedono dei valori numerici allora lì deve per forza convertire a numero e quindi cerca di farlo se la conversione va a buon fine come in questo caso fa l'operazione se la conversione non va a buon fine il risultato è che il numero non è un numero e quindi ci viene dato questo valore specifico di not a number è ovvio che a volte è scomodo avere a che fare con delle conversioni automatiche perché magari io in realtà volevo fare un 42 più 3 quindi volevo fare una somma quindi ottenere 45 il risultato invece è stato una concatenazione come faccio a risolvere questo problema posso andare a forzare la conversione da stringa a numero ad esempio invece di scrivere 42 più 3 quello che posso fare è mettere un più davanti al 42 e quindi questo mi forza la conversione da stringa a numero perché quando metto un più davanti a qualcosa quello è un operatore unario quello che sostanzialmente mi dà il segno quindi più 42 obbliga il runtime javascript a prendere 42 convertirlo in un numero e dopodiché una volta che numero sommarlo al 3 e quindi in questo caso ottengo 45 che è il valore che effettivamente mi aspettavo quindi in generale quando io ho delle conversioni devo sempre stare molto attento a come vengono fatte perché il rischio è di avere dei risultati che non sono esattamente quelli che mi aspetto soprattutto perché quando io acquisisco dei dati immaginate di leggere dei dati da un file che sta in rete quello che può succedere è che questi dati mi vengano trasmessi normalmente in formato testuale quindi il punto di partenza sono delle stringhe se io voglio fare delle operazioni aritmetiche devo ricordarmi che ogni volta che ho le stringhe devo fare una conversione e forzare la conversione in un numero in modo che poi il risultato effettivamente sia un valore numerico quindi più 42 è il modo standard di farlo ma se volete io posso fare un 42 per 1 più 3 di nuovo essendo il prodotto un qualcosa che deve essere per forza fatto con un numero automaticamente ho un'altra conversione allora domanda è possibile utilizzare delle conversioni per convertire i dati da string e int e viceversa allora sì ma in generale quello che viene fatto è utilizzare la versione compatta javascript è un linguaggio non particolarmente pulito e quindi i suoi programmatori sono abituati a utilizzare delle versioni molto compatte non vi ho parlato oggi degli operatori AND EOR in java ne ho parlato nella lezione che vi ho messo registrata ma anche quello è un esempio molto particolare che ci permette di scrivere versioni molto compatte magari non tanto leggibili in generale tutte le volte che voi avete una stringa avete una serie di di valori per cui quando avete la stringa potete andare a chiamare vari metodi non mi ricordo c'è value of che in realtà no mi restituisce comunque una stringa quindi no in realtà non c'è un metodo mi ricordavo male di value of non c'è un metodo che mi converte direttamente la stringa quindi quello che posso fare è fare il più quello che ci verrebbe da fare è ad esempio un 42 quindi convertire in intero però questo in javascript non funziona allora esempio su perché dovremmo voler assegnare una funzione ad una variabile allora questo ha a che fare con allora molto spesso ma diciamo che l'esempio fosse più più calzante è quello in cui noi abbiamo delle funzioni cosiddette di callback immaginiamo di voler andare a fare ad applicare una stessa funzione che ad esempio che so prende un numero e o prende due valori e li combina li converte in qualche modo e ci restituisce il risultato ad esempio diciamo che vogliamo avere una funzione che si chiama function converti e somma a cui vorremmo passare due valori a e b dove diciamo let a1 uguale converti a let let b1 uguale converti b non so che cosa ho fatto sì allora scusatemi ve lo scrivo in webstorm che è un po' più facile rispetto al quindi new javascript file esempio ok non è lat ma è let b1 e poi faccio un return di a1 più b1 ovviamente qui ci manca la funzione converti ok una possibilità è dire vabbè chiamo una funzione converti uguale a qualcosa che prende a e mi restituisce il suo quadrato per cui a un certo punto se io faccio converti punto scusate converti e somma 3 virgola 4 questo è il risultato che ottengo ok per cui se io vado a prendere tutto questo ve lo copio cancello tutto ve lo copio qua risultato vedete che è 25 quindi nel momento in cui ho eseguito converti e somma converti aveva un certo risultato e mi ha dato questo ovviamente questo non è un gran modo di andare a gestire le cose perché non so bene quando verrà eseguito questa funzione cosa varrà e diciamo che operazione svolgerà la variabile converti una soluzione che molto più spesso viene adottata è quella di utilizzare ve lo metto qua sotto un converti e somma in cui ho un parametro che si chiama converti a questo punto posso chiamare converti in questo modo oppure posso semplicemente andare a dire risultato uguale converti e somma e vado a mettere 3 virgola 4 virgola e vado a mettere a freccia a per a vedete che webstone mi dà suggerimenti quindi questo è il parametro a questo è il parametro b e questo qui è il parametro converti quindi in realtà non l'ho memorizzato come una variabile ma ce l'ho memorizzato come parametro che io passo e quindi qui dentro sostanzialmente il parametro è tutto sommato analogo a una variabile quindi posso utilizzare questa funzione per andare a fare la conversione in generale tutte le volte che io passo una funzione a un'altra funzione che la utilizzerà questa funzione passata come parametro viene chiamata funzione di callback nel senso che la funzione principale chiama indietro quell'altra quando ne ha bisogno quindi il risultato alla fine è questo analogo a quello di prima quindi è comodo poter assegnare a una variabile il valore che corrisponde a una funzione perché quello è quello che ci permette di passare le funzioni e quindi avere uno stile di programmazione che è molto comodo in javascript l'utilizzo di funzioni di callback è estremamente diffuso lo vedremo in diversi casi ma è molto comune ultima nota quando voi avete una variabile scusate una del codice javascript in webstorm potete andarlo ad eseguire questo ovviamente funziona se voi avete installato node.js quindi se volete eseguire direttamente il codice javascript potete utilizzare node.js per eseguirlo qui ovviamente ho un un errore perché ovviamente converti quando è definito vi commento questo allora vi tolgo un attimo questo e rieseguo e quindi ottengo il risultato che in realtà non è stampato e quindi non me lo fa vedere ok in generale se non volete installare node.js e volete semplicemente andare a scrivere il codice potete tranquillamente scrivere tutto quello che vi serve all'interno della console di un browser se invece volete andare ad eseguire del codice che vada a creare del contenuto all'interno di una pagina html la soluzione è quella di utilizzare un tag script al cui interno andare a mettere il codice javascript allora domanda io intendevo l'associazione da tra variabile e funzione quindi perché andare a segnare una variabile come nell'esempio che abbiamo fatto qui invece di dichiararla nella forma se ho capito bene function converti a quindi qual è la differenza tra queste due alternative qual è il vantaggio di avere la prima allora di per sé nessuna ok quindi io posso usare una scrittura piuttosto che l'altra per comodità molto spesso le funzioni vengono dichiarate in maniera anonima e quindi quando vengono dichiarate in questo modo non hanno un nome è semplicemente una una flessibilità in più ed è un modo di andare a utilizzare la stessa sintassi detto questo uno o l'altro sostanzialmente ci danno esattamente lo stesso tipo di di vantaggio un vantaggio importante è che una volta che io ho definito var converti uguale a una certa funzione posso andare a cambiare converti successivamente quindi posso andare a dire converti uguale a a freccia 2 per a mentre tendenzialmente andare a ridefinire la funzione è un qualcosa che buona parte degli editor mi dà come un errore nel senso mi dice questa è una duplicazione di dichiarazione quindi se io quella funzione in un certo istante voglio che abbia un certo tipo di comportamento e poi dopo lo voglio cambiare allora mi conviene avere una variabile uguale a se la funzione la definisco una volta e quella resta per sempre non c'è nessun vantaggio ok direi che abbiamo sforato spero di non essere andato a sovrappormi a vostre altre lezioni direi che con questo c'è una panoramica generale su javascript ci sono le lezioni che vi ho pubblicato vi metterò un'altra lezione un po' più avanzata che tendenzialmente non è estrettamente necessaria per il prossimo laboratorio il prossimo laboratorio sostanzialmente ha l'obiettivo di darvi la possibilità di impratichirvi un po' con javascript quindi utilizzeremo proprio il linguaggio base base giusto per capire un po' quale è la sintassi domanda sì allora un attimo che ti abilito il microfono ok dovresti poter parlare ecco sì ok salve buonasera avevo una domanda sull'esame in particolare sull'imiliare di fare il progetto sì mi piacerebbe avere qualche informazione in più su come hai fatto cioè cosa riguarda cosa vuol riguardare come come hai fatto magari se ha qualche esempio di qualche progetto vecchio così diciamo come ispirazione e soprattutto se fosse possibile come dire dividere le due parti ossia l'esame di diciamo quello con le domande sull'analisi del che ci propone e poi magari fare successivamente il progetto magari o a raffello dopo o addirittura non so magari a quello di settembre sempre perché essendo comunque nel terzo anno potremo avere difficoltà a livello di di offrezione di corsi quindi se ce lo permettessi potrebbe essere una comunità in ordine per noi Allora sì è possibile nel senso che ripeto c'è l'incognita su come verranno svolti gli esami in questa sessione diciamo che se resta tutto analogo simile agli anni scorsi voi potete prendere un un lavoro che potrebbe essere una tesina stavo guardando se no non li ho messi vi metto vi metto sulla pagina del corso dei dei link a delle tesine dell'anno scorso così avete un'idea del lavoro l'idea molto semplice è prendere un insieme di dati e cercare di visualizzarli andando a definire quelli che sono gli obiettivi questa parte sostituisce in pratica la parte di diciamo così sviluppo del grafico all'interno dell'esame standard restano sempre comunque da fare esattamente come le altre gli altri studenti che non fanno la tesina la parte di analisi del grafico e la parte di domande di teoria le due sono separate e almeno per l'anno scorso il vincolo era consegnare la tesina entro settembre ok chiaro grazie allora allora io sulle modalità d'esame non c'è ancora la certezza stiamo cercando di capire esattamente come verranno fatti e quali saranno i limiti una volta che abbiamo le idee chiare vi diciamo come potranno essere svolti gli esami una qualche idea su come svolgerli ce l'ho però non vi posso raccontare adesso un'idea perché non è detto che poi riusciamo a realizzarla quindi quando ho la certezza di come potranno essere svolti ve lo racconto l'idea è il più simile possibile agli anni passati spero diciamo entro metà maggio di avere un'idea così avete comunque un po' di tempo per adattarvi e per capire quindi vorrei mantenere più o meno gli stessi elementi poi una parte probabilmente verrà fatta in maniera telematica l'altra parte magari farò fare a tutti una tesina più o meno semplice da svolgere ok va bene direi che abbiamo sforato abbondantemente oggi chiudo ricordatevi del laboratorio giovedì prossimo buon pomeriggio grazie a tutti Grazie.